Noi purtroppo non siamo astrologi, quindi non siamo capaci di predire il futuro. Certamente siamo di fronte a un virus diverso, certamente abbiamo dei vaccini estremamente sicuri e efficaci e oltre a questo abbiamo anche dei farmaci che possono essere molto utili nel momento in cui il vaccino non raggiunge un'efficacia del 100%, soprattutto nelle persone più vulnerabili. Quindi io direi che pur con un certo ottimismo dobbiamo tenerci pronti per quando in autunno il virus potrebbe ricominciare a circolare tenendo presente che questa volta non saremmo disarmati e magari come fanno sperare alcuni dati che escono in questi giorni potremmo anche avere dei vaccini ancora migliori diretti contro questo virus che per l'appunto è molto diverso da quello iniziale.